Io sono sempre stata favorevole alle manifestazioni degli studenti, ne ho fatte tantissime io, quando sono rispettose, quando esprimono il proprio pensiero. Come ho già detto a una giornalista che mi ha intervistata, quei ragazzi hanno semplicemente fatto sì una provocazione, perché hanno detto fuori le ideologie tutte, anche quelle appunto, di chi dice che l'antifascismo è l'unica delle cose che deve essere fatta, dimenticandosi peraltro che cos'è stato l'antifascismo, anche nell'ultimo periodo. L'ultimo morto nel nome dell'antifascismo fu Marco Biaggi e io non lo dimentico mai.